Il Dipartimento di Bioscienza e Territorio nella sede Unimol di Pesche, teatro di un dibattito senza filtri sui temi della legalità, dell'educazione alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente. Mattatone scena il parroco in prima linea da sempre contro la camorra, Don Maurizio Patriciello. È lui l'ospite atteso dalle studentesse e dagli studenti universitari, dai ragazzi delle scuole superiori e dai tanti bambini delle scuole elementari che affollano l'aula magna Galileo Galilei. E la lezione è subito diretta, si deve parlare di normalità. Intanto a me non piace parlare di legalità ma sempre solamente di normalità. Siamo un paese civile, democratico, ci siamo date delle regole e queste regole devono essere osservate. A chi non piacciono le regole deve lottare per poterle cambiare, migliorare ma dobbiamo osservarle perché se no si introduce poi un mondo del male a fare, il mondo del malaffare, della camorra, della mafia, della corruzione che è peggiore della camorra e della mafia. Con lei il prefetto di Sernia, Franca Tancredi, il sindaco di Pesche Maria Antinucci, la direttrice del Dipartimento Bioscienze e Territorio, la professoressa Stefania Scippa e il rettore Luca Brunese che nel suo saluto iniziale ha voluto evidenziare quanto importante sia parlare di temi fondamentali come legalità fin da subito proprio con i bambini. Un pensiero questo sentito da Don Patriciello perché per lui i cattivi esempi provengono sempre dagli adulti. Lo racconta la dura cronaca quotidiana su giovani che commettono reati e azioni violente. Chi dovrebbe recuperare questi giovani sono gli adulti e sono gli adulti che tante volte fanno le stesse cose dai giovani. Magari in un modo più soft, magari in un modo più furbo, però fanno le stesse cose. Chi dovrebbe intervenire per quanto riguarda la pornografia online? Sono gli adulti, ma sono gli stessi adulti che usano la pornografia online. Io quando vado nelle scuole, vado molto nelle scuole, quasi ogni giorno sono in una scuola. In genere, ripeto, non amo parlare di legalità perché poi sembrano le stesse domande, sembrano le stesse cose. Dico ragazzi, a voi che cosa serve? L'altro giorno eravamo in una scuola a Massa Lubrense e allora ho detto ragazzi, per cortesia, parliamo di noi. Qualcuno di voi fuma, uno ha alzato la mano e gli dice, vieni qua, dammi il tuo pacchetto. Mi ha dato il suo pacchetto di sigarette e dico, ma che c'è scritto sopra? Il tabacco contiene 70 sostanze cancerogene. Dico, ma che sei scemo tu, scusate, ma sei proprio folle. Gira il pacchetto dall'altro lato, ti fa venire il cancro alla gola, gira dall'altro lato, il fumo uccide. Chi di noi andrebbe a comprare un pacco di caramelle che sono scadute una settimana? Eppure tanti di noi, però, chi è che deve dire a sto ragazzo che il fumo lo sta uccidendo? Suo padre che sta fumando. Questo padre avrà mai il coraggio di dire a suo figlio, figlio mio, il fumo sta uccidendo te, sta uccidendo pure me? Poiché fuma lui, non lo dice al figlio. Io sono stato parroco, dico sono stato perché in questi giorni non è più così. Sono stato parroco di uno dei quartieri dove c'era il maggiore spaccio di droga di tutta l'Italia, insomma, Parco Verde in Caivano. E chi è che deve dire ai nostri ragazzi, ragazzi, guardate che la droga ha cominciato allo spinello, vi rovina la vita. Forse è quel padre che anche lui, sotto sotto, di nascosto, ma un poco di cocaina se la fa anche lui. E alla vigilia della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, un pensiero per una delle ultime vittime. Per quanto riguarda la povera, cara Giulia, purtroppo il problema non è che si è riproposto, perché subito dopo la morte di Giulia, l'uccisione di Giulia, c'è stato un altro femminicidio che è passato del tutto inosservato, un uomo di 70 anni che ha ucciso la sua donna di 70 anni. Il problema è così complesso che io sto leggendo tantissimo, anche tanti colleghi, io sono giornalista, tanti colleghi che hanno scritto al riguardo, però noto che ognuno ha imboccato una strada giusta, ma è sempre incompleta. Il problema è veramente molto complesso, riguarda la violenza del maschio sulla donna, e questo è un patrimonio che ci portiamo dietro purtroppo da secoli. Secondo me ci sarà difficile scollacciare dalle spalle tutto all'improvviso, insomma sono secoli e secoli che la società è stata impastata in questo modo. Adesso ai maschi viene difficile confrontarsi con una donna e dire alla mia stessa dignità, forse mi supera anche nelle capacità, non è un caso che il povero Filippo, mi sembra che si chiamasse così, il povero Filippo è rimasto talmente offeso dal fatto che Giulia si stava per laureare e lui no, forse è proprio questa la chiave di lettura.